allora è qualcosa che eh diciamo vabbè la registrazione è iniziata di solito di solito ci interessa poco quello che diciamo dal punto di vista organizzativo no di Elso chat up eh vabbè eh ci sto io sono vabbè vabbè io pure me la cavo allora ehm eh questione organizzativa eh l'avevo già eh anticipato la la lezione di ieri in asincrono eh in realtà ehm riguarderà un lavoro che dovete fare su Moodle che ho già caricato che poi ecco se se me ne dovessi dimenticare sbattatamente ricordatemelo insomma alla fine della lezione vi faccio vedere di che si tratta comunque è un esercizio come mi piace a me no? I propongo l'interpretazione di una fonte di una fonte storica eh sempre sulla fondazione di Roma chiaramente ci sono due o tre domandine a cui rispondere veramente una cosa molto semplice diciamo così anzi non ve lo faccio vedere subito così su Moodle trovate un esercizio che si intitola eh Roma onoremo e la fondazione di Roma proprio in fondo all'ultimo argomento che appunto le origini di Roma e in pratica eh come vedete eh si tratta praticamente di di commentare di rispondere a queste tre domandine vedete domande chiave eh su questa eh brano molto piccolo che eh Tito Livio grande storico no? Della eh del primo secolo del primo secolo avanti Cristo eh ci dice a proposito della fondazione di Roma l'uccisione di Remoli diciamo da parte di Romolo perché Romolo vince tra virgolette la gara come vedremo oggi su chi fonda la città e su chi soprattutto gli darà il nome eccetera 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 quindi le domandine sono quali diversi segni augurali giunso da Romolo e Remo cioè che videro per cui poi praticamente la cosa fu decisa nel modo in cui sappiamo che Romolo eh fu proprio il fondatore poi ricordi da quale popolo i latini appresero l'arte della divinazione facile eh quel popolo importante no? Che faceva della divinazione eh il uno dei camisati della propria religione e poi quali sono le due ipotesi perché Livio non ci dice come è andata effettivamente la faccenda ovviamente si tratta di una leggenda però Livio faceva fitta di crederci che era successo sul serio questo eh scontro fra fratelli due ipotesi sulla sull'uccisione di Remo che eh poi possiamo ve le lascio così vedete che ci sono due possibilità diciamo e poi ve le ricordate e le piazzate sul vostro sul vostro esercizio ok? Niente di particolarmente eclatante allora invece per iniziare con un piccolissimo riepilogo tanto per non annoiarci insomma eh noi vi ricordate che noi la puntata precedente l'avevamo dedicata a a un doppio binario no? Rispetto all'origine di Roma la fondazione di questa città e il doppio binario era da una parte il mito il mito come possiamo tradurlo? La leggenda, la favoletta, una specie di di racconto appunto non basato no? Su eh su prove storiche e il secondo binario invece ecco soprattutto negli ultimi quindici vent'anni gli archeologi hanno aggiunto un sacco di conoscenze che prima non c'erano eh però basate sulle fonti storiche reali. Fonti storiche ragazzi che sono di due tipi no? Tanto per per capirci. Oh scusate eh sto eh ho sto dimenticando un particolare assolutamente importante per voi soprattutto alla fine di aprile e io venerdì interrogo su queste cose cioè tutto quello che riguarda eh in pratica il capitolo che il vostro libro dedica alla fondazione di Roma quindi orecchie ben aperte soprattutto se dico una cosa che non vi è molto chiara soprattutto rispetto alla alla lezione precedente dite ma non so. Quindi binario numero uno per capirci qualcosa su com'è nata Roma la leggenda eh sì eh binario numero due soprattutto eh grazie al lavoro di archeologi come Andrea Garandini che ha lavorato per tanto tempo sul palatino negli ultimi quindici vent'anni io l'ho pure conosciuto una bravissima persona molto disponibile eh è uno dei più grandi archeologi italiani eh almeno contemporanei però è assolutamente alla portata di mano diciamo così e lui ci ha dedicato veramente un sacco di scavi di campagne di scavo sul palatino anche nella parola del foro e certo adesso ne sappiamo un po' di più e eh è chiaro che però eh su una cosa dobbiamo ricordarcela sulle sulla fondazione della città di Roma le le fonti sono scarse quelle scritte sono soltanto eh la rielaborazione molto più tarda eh più o meno da di sei sette secoli dopo da parte di storici come Tito Livio come Publio Terenzio Varrone eh che però si ricordano la leggenda insomma non è che ci dicono niente di particolarmente sicuro no? no? E oppure ecco un po' più sicure però da interpretare sono come sapete le fonti materiali no? Eh quelle che hanno a che fare con i ritrovamenti di resti no? Le fonti archeologiche diciamo così ma quindi resti, corredi dombali eccetera eccetera sui corredi dombali vi ricordate abbiamo fatto anche caso no? Nel ricostruire come erano le prime abitazioni dei romani proprio rifacendoci alle urne cinerarie che abbiamo trovato sul palatino ma anche nella valla del foro quindi risalente a quel periodo presi questi due binari cioè visti questi due binari ma abbiamo detto però ma non si incrociano mai cioè la leggenda è veramente tutta una favola una fandonia una stupidaggine no abbiamo visto che certe cose coincidono quindi insomma nella leggenda abbiamo cercato di rintracciare delle delle cose degli elementi no? Che poi sono stati tutto sommato confermati dai ritrovamenti archeologici insomma per esempio adesso non ve li dico tutti perché abbiamo visto nella nella lezione precedente di cui avete una stupenda registrazione beh il fatto che la prima Roma nasce sul palatino è vero lo dice sia la leggenda e sia i ritrovamenti che abbiamo visto i famosi buchi no? Dei pali delle cavagne poi vabbè domani è compleanno di Roma quindi fategli gli auguri domani mattina 21 aprile del 753 a.C. la fondazione ora vi immaginate come possiamo che ne sappiamo però la leggenda dice questo eh le tracce le tracce datate della prima Roma e beh ci riportano comunque più o meno a metà dell'ottavo secolo quindi anche qui insomma leggenda e storia scientificamente basata si si incrociano perché no? Il fatto che Roma la fondano due ragazzini ex ragazzini no? Latini che vengono da Alba Longa ma è vero pure questo non dell'esistenza di Romolo e Remo sto parlando ma di gruppi di latini che scendono dai castelli romani no? Dai colli albani e vengono nella valla del Tevere a fondare Roma. Lo scontro con i sabini e la sua e la fusione successiva ma è andata proprio così in effetti magari non ci sarà stato l'episodio del ratto del rapimento delle sabine però i due popoli che abitavano colli diversi no? Dei sette colli i latini stavano soprattutto sul Palatino, i sabini sul Pirinale e sul Laventino poi però si sono uniti, hanno fondato poi un popolo unico. Quindi insomma qualche incrocio l'abbiamo trovato. Ok? Ci sono domandine? Domandone anche insomma se... Francesca. Per l'interazione ma mi si chiederà la leggenda. Non lo chiedo scusa? Beh sì. Ma facciamo la... Quella che c'è alle spalle, guarda. Beh è Nea. C'è la parte che riguarda Nea però insomma quella è abbastanza semplice. E poi tutta la faccenda di Romolo, Remo, Iretta al Balonga, no? Ma comunque il nostro libro la fa molto breve. Io forse l'ho fatto un po' troppo lunga. E tutta la leggenda, tutte le due parti della leggenda, quella dei troiani che arrivano in Lazio e poi di Romolo e Remo è qua, eh? Non c'è moltissimo. No, almeno almeno i elementi fondamentali magari mi piacerebbe che... Allora quanto poi li prevederei? No, per carità. No, non c'è bisogno. Va bene, allora se non ci sono altre domande io ve lo seguirei. Noi eravamo arrivati, praticamente abbiamo visto di pagina 264 tutto quello che vedete che non è cancellato, mi pare che manchi qualcosa, eh? Comunque soltanto fino qui, eh? Roma Quadrata, il Colle Palatino, cioè il fatto che eh fonti e leggenda eh concordano. Poi avevamo visto appunto che cos'era il Septimontium, cioè questi sette villaggi che nascono prima separatamente nei sui sette colli, poi si fondano in una città unica, no? È ok. Che c'era di interessante nel fondare una città proprio qui? Eh il Tevere. Il Tevere permetteva di risalirlo fino all'Appennino e poi a sinistra del Tevere c'era l'Etruria gli etruschi e a destra c'erano i greci. Quindi in pratica Roma nasce come se fosse una specie di casello autostradale, no? Nord sud e est ovest. Quindi è un posto interessante a livello commerciale, diciamo così. Eh ecco, quindi ritorniamo, ritorniamo per un attimo alla leggenda barra storia, i sette re. Vabbè, i sette re insomma, anche questi secondo me, ma no secondo me, secondo gli storici non c'è assolutamente un minimo, un minimo elemento che ci dica che questi sette re sono effettivamente esistiti, hanno effettivamente vissuto. Tenete presente che la fase monarchica di Roma, come vedremo nelle prossime puntate insomma, dura ben duecento anni, qui dalla fondazione fino più o meno al sesto secolo avanti Cristo, ma in duecento anni ragazzi, solo sette re, ma un po' poco, anche perché la vita a quei tempi al massimo quanto potevi vivere? 45-50 anni, insomma se fate un po' la divisione, insomma no, non ci so. E tuttavia la leggenda, no? Ci consegna proprio i loro nomi, iscrizioni, storie della fondazione del periodo monarchico molto successive, no? Di Tito Livio, no? Appunto ne parla. Vediamo come sono. Tra l'altro sono sette come sette colli, sette era un numero sacro per i romani, adesso non mi chiedete perché, non saprei, però sette era un numero molto molto importante. E guardate anche quest'altra cosa, facciamoci caso prima di elencare i re e poi perché ce li dobbiamo ricordare, perché i romani se ricordavano come importanti. Ce n'è uno buono e uno cattivo, cioè uno pacifico e uno invece più aggressivo rispetto ai popoli che lo circondano. Quindi pure questo mi sembra un'altalena proprio costruita a tavolino, no? L'abbiamo detto perché i romani ci tenevano tanto a questa leggenda, no? Quando Roma diventa importante, prima in Italia e poi nel Mediterraneo, i romani dicono ma è possibile che non ci abbiamo uno straccio di mito, di fondazione della nostra città? E quindi si inventano questa cosetta, insomma. Bene, Romolo è stato il primo, no? Primo re. Vabbè, sulla sulle sue esistenze, mi pare che ci abbiamo molti dubbi. In realtà lui governa, dopo aver fatto pace con i sabini, con Tito Tazio, che era appunto il re invece dei sabini. Quindi immaginate più che una monarchia, una diarchia, no? Un potere di due. Però sempre potere che vede questi due signori come re praticamente. E dopodiché, dopo la morte di Romolo, vi ricordate, il vostro libro non ve lo dice però, una specie di assunzione in cielo, no? Da vecchio passeggia sul Quirinale, che era pieno di una grande foresta di querce, o un fulmine lo prende e se lo porta nel cielo, oppure un'aquila gigantesca, Zeus probabilmente, anzi il romano Giove, lo porta fra gli dèi e da lì poi lui diventa il dio Quirino, quindi Romolo viene divinizzato dopo lo sa morte, ma fa parte della favola tutto questo. Il prossimo dopo Romolo, quindi Romolo fa parte dei sette, no? Numa Pompilio. Numa Pompilio dall'altro era Sambino, quindi insomma. A lui la leggenda dice, va attribuita alla fondazione del sistema religioso romano, che in fondo è una specie di calco di quello greco, eh? Zeus, Giove, Era, Giunone, no? Quindi Atena, Minerva, Ares, Marte, li ritroviamo tutti quelli che conoscevamo, che conoscevamo in Grecia. È buono, e Numa Pompilio com'è buono, aggressivo? No, no, è buono, insomma, è quasi una specie di super sacerdote. Si inventa anche il primo calendario, no? Che segna il tempo a Roma. Ovviamente, ripeto, sia i nomi dei re, sia le loro gesta sono tutte inventate. Tullo Ostilio, è latino questo. Ostilio, beh, a Ostes, no? Che significa nemico. Tullo Ostilio è uno, è un re guerriero, invece, che comincia, perdonatemi il brutto termine, a rompere le scatole, a conquistare le popolazioni appena appena circostanti a Roma. Poi, uno che ci dovrebbe essere molto caro, un altro Sambino. Vedete anche l'alternanza, un latino, un Sambino, un latino, cioè, sembra costruita, no? E Ancomarcio, o Ancomarzio, come volete, è quello che si inventa Ostia, no? Quello che fonda la prima colonia romana, proprio alla foce, no? Del Tevere e soprattutto eh sul mare, no? Fondatore del porto di Ostes. E poi a un certo punto succede qualcosa. Ci sono una una serie di re etruschi, secondo la tradizione. Tarquinio Brisco, Sergio Tullio e l'ultimo Tarquinio il Superbo. Eh come mai Tarquinio, no? Dal nome di Tarquinia, che è una delle grandi città etrusche, come abbiamo visto. Eh probabilmente anche qui c'è qualcosa di vero. Eh il solito Andrea Garandini che si è molto divertito in questi anni a esplorare le prime fasi della storia di Roma ce l'ha detto, l'ha dimostrato. Cioè Roma più o meno dal settimo secolo in poi vive per un per circa un secolo sotto la dominazione etrusca o quantomeno subisce l'influenza della della civiltà etrusca in maniera forte. Eh questo spiegare spiegherebbe come mai anche la leggenda dice che gli ultimi tre re romani sono stati di origine etrusca. Non più latini o sabini, quindi locali, ma venivano da fuori. Strano, no? Eh qui i romani sono poco campanilisti, diciamo così. E però attenzione perché leggenda o meno, ecco per esempio eh Servio Tullio la leggenda dice costruisce la prima cerchia di mura eh vere no? Di pietra della città e sotto i re etruschi comunque Roma fa il grande salto di qualità. Qui permettetemi di farvi vedere delle cosine. Eh quindi ok questi tre re etruschi sono esistiti direi credo proprio di no e però la dominazione etrusca su Roma in periodo monarchico c'è stata. Tanto che gli etruschi addirittura erano capaci di imporre dei sovrani loro qui a Roma. Quindi Roma è come se fosse fosse stata inghiottita no? Dalla civiltà etrusca. Eh che ci lasciano gli etruschi? Ma un sacco di bella roba eh? No questo non ci serve. Allora beh intanto le mura serviane. Questo è un plastico della Roma di quel periodo vedete dal colle Palatino e Campidoglio insomma si è molto estesa anche qui sotto. Ecco questo questo circuito qui di fortificazioni di mura sono le mura serviane. Perché Servio Tullio vabbè se ci piace ricordarci questo nome invertato a a lui viene attribuita la costruzione di questa prima cerchia di mura eh vere e proprie. Diciamo che con gli etruschi tanto per per capirci Roma fa il salto di qualità ah ma allora questo eh da villaggio diciamo così o quanto meno da insieme di villaggi a una vera e propria città stato sul modello sul modello greco quindi eh tra l'altro se ci pensate no? Provateci a a vedere se il modello regge. Anche a Roma c'è un'acropoli no? Eh il Capitoglio. In Capitoglio vedete gli etruschi costruiscono questo popò di tempio in terracotta e legno che è il tempio di Zeus Capitolino appunto di Giove Capitolino. È il primo tempio in puratura che appunto grazie alla dominazione etrusca viene costruita viene costruito proprio sul colle del Capitoglio. Eh anche questo no? Fa assomigliare adesso Roma alle mole sgreche. La Gorà Roma dove ce l'aveva? La Valle del Foro. Valle del Foro che i Greci bonificano eh vi ricordate qual è il problema della prima Roma no? Il Tevere che tracima spesso e rende paludose le le zone più basse no? Per questo i primi insediamenti stavano belli in alto sui colli. Eh gli etruschi dicono ma ma che spreco tutta questa bella pianura fra le colline asciughiamola no? E diciamo così creano un attimo ve la faccio vedere una cosa che ancora funziona un tunnel sotterraneo che parte dalla Valle del Foro e arriva a Tevere e scarica scarica le acque le acque stagnanti e la famosa croaca maxima cioè fognatura grandissima come dissero i romani. Guardate questa roba qui questa è una fotografia di oggi eh ancora la gloaga maxima oddio è piena di topi grossi così però eh ancora visitabile funziona per le acque per esempio non di scarico delle delle abitazioni ma per le fognature che eh in quella zona diciamo tra Testaccio e e l'Aventino e il Foro eh diciamo così raccolgono le acque piovane funziona vedete addirittura e c'è e c'è ancora oggi se se ti avventurate eh verso attimo devo trovarlo no 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 c'è anche questo ma niente questo vuole questo vuole partecipare a tutti i costi è sempre lui? Allora so io eh se vi avventurate ecco qua eh sul ponte Testaccio vi lasciate alle spalle il centro di Roma e lo percorrete in direzione della piramide della piramide di Cagliocestio mi piace che se passeggiate l'avrei volute fare volentieri insieme a voi proprio sotto il ponte è visibilissima l'uscita delle acque della della cloaga maxima che sbocca ovviamente dentro il fiume Tevere no? Quindi ecco come? No no ma è abbastanza grossa quindi non è un cunicolo eh adesso è una galleria vera e propria quindi gli etruschi costruirono in maniera come dire efficace questa questa grande fognatura cioè anche in presenza di alluvioni no? Di eh piogge torrenziali del Tevere che si ingrossa questo porta via porta via l'acqua dalla dalla Valle del Foro insomma quindi insomma basterebbero queste tre cose no? Aver reso accessibile la Valle del Foro eh aver appunto eh costruito il primo tempio importante della città e eh le mura per 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 dire grazie etruschi insomma. Oh la leggenda dice che eh la eh la monarchia finisce qui il vostro libro non ve lo dice lo dico io la monarchia finisce con Tarquinio il Superbo vedete che la leggenda già gli appiccica una un'etichetta poco gradevole no? Il Superbo eh com'è andata secondo la leggenda? Il figlio di Tarquinio il Superbo stupra un'aristocratica romana una una patrizia romana poi vedremo che cosa significa patrizia e eh è sicuro di avere l'impunità tanto comandiamo noi etruschi no? In realtà eh i nobili romani anche la plebe cioè il popolo romano si ribella e caccia via sia il il figlio di Tarquinio che Tarquinio stesso e dice la leggenda da qui in poi Roma diventerà una repubblica non ci sarà più un eh un re. Come sarà andata ragazzi se non vogliamo interpretare pure questa cosa? Ma probabilmente Roma si libererà si libererà si sarà liberata no? Della dominazione etrusca un po' perché i romani si ribellano a questa dominazione e un po' perché anche gli etruschi in concorrenza con i fenici e i greci che stavano da queste parti forse subiscono dei colpi no? Lì allo militare a livello economico quindi praticamente lasciano Roma e Roma ridiventa indipendente e autonoma. Forse è più credibile questo cioè la storia dello stupro no? Della della violenza carnale rispetto a a a Lucrezia no? Come come vedrete non non avrà probabilmente nessun tipo di eh insomma di verità insomma. Quindi sappiate che a un certo punto la monarchia finisce con Tarquinio il superbo ma non si sa e e Roma diventa repubblica. Quindi vedete siamo costretti pure oggi a fare un po' lo slalom no? Ecco il vostro libro pure mi dice quello che ho detto io vedete la dominazione etrusca come eh tutto sommato un fatto positivo per Roma no? Diventa una città vera e propria e invece per finire tanto per non lasciarvi da soli eh c'è una cosa molto interessante no? Che eh anche questa ci costringe a fare un po' di di ping pong fra eh leggenda e verità ma sta fondazione di Roma no? Ve la ricordate com'è andata no? Eh ha seguito una specie di eh noi non lo sappiamo non lo sappiamo fino adesso ma ha seguito una specie di falsa riga di vero e proprio rituale che i romani ereditano dagli etruschi. Quando gli etruschi fondavano una città eh gli è successo parecchie volte nella loro breve ma in terza storia seguivano una serie di eh azioni prima di tirare su insomma le case, le mura eccetera che i romani poi presero dagli etruschi stessi. Allora esempio c'è 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 Catone il censore eh questo eh come vedete eh anche lui è molto molto posteriore successivo alla vicenda della fondazione di Roma che ci dice questo racconto no? Ci racconta questa storia. I fondatori di città aggiocavano un toro a destra, una vacca all'interno, vedete questa immagine che abbiamo richiamato più volte e cinti secondo il rito gabino, che è sto rito gabino? Gabi era una città etrusca quindi il rito che si era inventato eh che era stato inventato dagli etruschi a Gabi, cioè con il capo parzialmente velato dalla toga, tenevano il vomere inclinato affinché tutte le zolle cadessero all'interno e tracciando il sol che in questo modo delimitavano il luogo delle mura sollevando l'aratro quello delle porte. Cioè che facevano? Eh vediamo prima di arrivare a questa scena no? Alla scena del del tracciare praticamente attraverso un aratro no? Eh il posto dove devono sorgere le linee dove devono sorgere le eh le mura della città. Che si doveva fare per fondare una città? E guarda caso la leggenda di Ramone e Remo ci dice la stessa cosa. Ma intanto scegliere il luogo ma la vista è ovvia no? Dove la vogliamo costruire? E eh ci rendiamo conto che questo è un buon posto. Poi attenzione eh la cosa la cosa che ci dice eh la leggenda di Ramone e Remo l'auspicium cioè dobbiamo cogliere no? Un segnale, un segno, un parere delle divinità che è favorevole a che noi costruiamo quella città. Eh ma scusate ma Romolo e Remo no? Romolo e Remo sbaglio o non avevano fatta questa cosa? Sì in fondo erano due no? Tenete presente questo è il sito di Roma quando Roma ancora non c'era no? Secondo la leggenda. Allora Romolo si mette sul Laventino. Vedete? Eccolo qua. Ok? C'è un occhio nella posizione di Romolo. Remo si mette su quella che oggi è una collinetta vicino a Laventino che si chiama San Sabba, il quartiere di San Sabba e dicono eh darà il nome fra noi due eh a questa città che dobbiamo fondare chi ha vista più a Boltoi che forse portavano anche male. Allora qui qui come leggerete dalla fonte che dovete interpretare c'è subito una una storia di pasticcio nel senso che vedete gli avvoltoi avvistati da Remo erano sei sei che volavano informazione no? E allora a questo punto Remo dice ah l'ho visto io per prima sono sei mentre annunciava la sua il suo avvistamento però Romolo ne ha vista dodici. Beh non c'è partita però chi vince? Chi li ha avvistati prima o chi ne ha avvistati di più? Eh vabbè Romolo forse un po' più prepotente diceva ah faccio io la città. E guardate però adesso a precedere dalla favoletta è l'auspicio eccolo l'auspicio cioè l'arte del capire che cosa vogliono da noi gli dèi se sono contenti di quello che stiamo facendo vedete che lo ritroviamo dagli etruschi passa dentro la leggenda di Roma no? chiaramente. Dopodiché che si fa per fondare una città? Eh guarda caso Roma fu fondata secondo questa regola del gioco. La lustrazio. Lustrazio in in latino voi siete dei grandi latinisti quindi lustrazio vuol dire ripulitura eh purificazione cioè si facevano in questo posto che abbiamo scelto e che gli dèi ci hanno detto ok eh si fanno dei ridi dei sacrifici di animali per ringraziare gli dèi e per tenerseli buoni e in più si purifica anche con il fuoco con dei profumi no? L'area magari un po' paludosa un po' selvatica eccetera. E dopodiché c'è questa scena che io ho richiamato d'altre volte adesso sicuramente non la dovrò più e invece sì c'è il disegno no? Delle mura cioè il famoso sulcus primigenius cioè il solco originario della città. Avete sentito come dice Gatone come funzionava? Cioè si acchiappava un vomere ecco immaginate una arato di questo tipo tutto il legno con la punta in metallo ma solo la punta qui venivano aggiocati vi ricordate no? Adesso mi ricordo se la mucca all'interno e un bue all'esterno che tiravano un po' da motore però dove dovevano sorgere le porte? L'aratro era tirato su ovvio no? Perché se il solco poi indica lì dove andavano tirate su le mura eh le porte sono delle interruzioni delle mura no? Chiaramente. E eh chi lo fa? Eh guardate qui c'è gente addirittura con la toga dei sacerdoti praticamente e guardate che Romolo eh viene eh spesso raffigurato mentre fa quest'operazione con una specie di toga sulla testa no? Sta facendo eh un atto sacro e quindi ha bisogno di questo di questo modo di divorzi insomma di presentarsi. E insomma c'è tutto no? Come vedete quindi i romani inventarono questa leggenda della fondazione di Roma facendo chiaro riferimento a a questa tradizione etrusca che passa anche ai romani su. E volevo vedere se c'era qualche altra cosa da farvi vedere non credo. Ecco vedete immaginate Romolo Romolo così o chi o chiunque fondasse una città tra gli etruschi e romani eh che eh abbastanza faticosamente maneggiava questo vomere no? Naturalmente. Eh un ultimissima cosa anche se abbiamo visto nella puntata precedente qualcosa del genere ma come era sto palatino? Ecco oggi oggi sul palatino naturalmente sono degli scavi archeologici cioè città no? Ecco immaginate che le fate fitta che questa sia la capanna di Romolo. Come l'avreste trovato il palatino? Una foresta, una foresta di querce, lecci, alberi alto fusto, popolata di animali selvatici. Qui si intravedono eh dei cinghiali, delle degli uccellacci tremendi. Qui c'è addirittura in volo il picchio rosso che era l'animale totem dei latini. Ma insomma la prima Roma è questa eh? Insomma sì bellissimo il solco eccetera. Non immaginate una spianata bella liscia come un campo di calcio eh? Era un territorio selvatico che poi i romani hanno naturalmente eh colorizzato insomma c'è stato un insediamento. Quindi qui siamo tornati un po' indietro. Ai tempi degli etruschi chiaramente ormai Roma è una città no? Quindi eh assomiglia molto di più a quello che vi ho fatto vedere prima. Cioè è vero che ci sono ancora dei boschetti all'interno però è città con le sue strade, i suoi edifici muratura eccetera eccetera. Mi sembra che abbiamo terminato. Quindi se se non ci sono domande possiamo dimmi. Come no? Eh possiamo dimmi. Sì il il vomere praticamente è la punta di metallo dell'aratro. Quindi l'aratro è tutto il il macchinario diciamo no? Ok? Quella parte a punta ricoperta di metallo per renderla più resistente e più brava a scavare eh il vomere. ok? Oh e l'aratro ovviamente manco a dirlo serviva anche a dissodare la terra per per l'agricoltura eh chiaramente non è che serve solo a fondare le città. Spera classico strumento dell'agricoltore eh quando si trattava di smuovere in terreno per poi seminare. Grazie mille. Grazieagoni! Grazie.